Tra le 14 tradizionali casette che ogni anno nel periodo di Natale vengono aperte in Piazza della Repubblica, ce n'è anche una dedicata ai prodotti del commercio eco solidale. Siamo con Consuelo Paris, una volontaria della bottega del commercio eco di Iesi. E con lei parliamo di una nuova linea di detersivi biosolidali, appunto un prodotto della cooperativa Mondo Solidale, una linea di detersivi abbastanza nuova e recente che proviene dal Brasile. Sì, infatti è una linea veramente innovativa perché non è solo biologica, quindi fatta con prodotti biologici, ma soprattutto da materie prime del commercio eco solidale perché la materia prima viene dal Brasile, da un progetto di una cooperativa agricola che si chiama Coppagi e al suo interno ci sono diverse associazioni che fanno parte di questa cooperativa Consorzio Agricolo e insieme queste persone da una pianta che si chiama Palma di Babasù ricavano questa noce della palma e da questa noce viene esportata in Italia e in Italia, in particolar modo nella ditta Pierpaolo di Senigallia, si estrae l'olio da cui poi si fanno questi detersivi. Quindi anche la stessa lavorazione di questa palma è anche un contributo al lavoro di queste persone. Ecco, quindi si tratta di detersivi assolutamente biologici, fatti con materiale biologico e dalle persone appunto, dai popoli autoctoni appunto del Brasile. Qui avete anche cioccolata, biscotti, caffè, i vari prodotti che sempre si trovano nella bottega. Vogliamo ricordare quanti volontari siete qui a Iesi? Ma qui a Iesi siamo come volontari iscritti, siamo diciamo una quarantina, però poi più attivi siamo quei 10, 15, adesso per questa rassegna siamo anche arrivati a 20, però ecco in eventi così più grandi. Ecco, questa rassegna è dedicata al turismo responsabile, questa quarta rassegna di turismo responsabile e al commercio eco, a un commercio etico in cui a dominare siano le leggi dell'etica e non quelle dell'economia spicciola. Qual è la dinamica che anima anche la cooperativa Mondo Solidale? Come funziona proprio a livello economico? Qual è la filiera poi che precede l'arrivo del prodotto nella bottega? Noi come cooperativa di ai commercio eco solidale cerchiamo di stabilire, anzi abbiamo già stabilito da diversi anni delle relazioni con i produttori di alcuni paesi in via di sviluppo e abbiamo proprio un contatto diretto e ogni tanto li andiamo anche a visitare, grazie anche al turismo responsabile, i produttori che hanno iniziato questo cammino insieme a noi. Noi facciamo da supporto e da sostegno per iniziare un percorso. Poi l'obiettivo sarebbe quello di comunque renderli autonomi anche una vendita sul proprio mercato locale. Quindi l'aiuto nostro è quello come volontari di cercare di vendere i prodotti perché così i produttori locali riescono a autosostenersi. Quindi non è una beneficenza ma è un sostegno per l'autosostentamento delle persone che lavorano. E possiamo dare qualche numero? Sono in tanti ad essere coinvolti da questi progetti? Sì, sono in tanti perché ci rivolgiamo sempre a delle comunità, a delle cooperative o comunque dei consorsi di produttori, non a un singolo produttore che produce un particolare articolo o alimento. Quindi c'è sempre una relazione con un gruppo di persone. Per esempio la cooperativa Mondo Solidale ha dei progetti diretti in Guatemala con il caffè e il bosche dove c'è un villaggio di agricoltori che appunto hanno del terreno dove coltivano le piante da caffè. Sono circa 50 famiglie che fanno parte di questa cooperativa in Guatemala e ogni anno circa andiamo anche ad incontrarci, a scambiare, a confrontarci, a conoscersi. Poi ci sono anche altri progetti in Peru con un piccolo villaggio che alleva degli alpaca e da cui ricavano i tessuti, quindi fanno dei tessuti in alpaca e sono vendibili anche qui nelle nostre botteghe. Oppure c'è il progetto Linfa in Brasile che poi viene lavorato qui a Senigallia e anche un progetto in Kenya con il villaggio di Uniolo di Uvip che costruiscono dei cesti e anche vicino al loro villaggio c'è una cava di saponaria dove fanno anche dei manufatti in proprio materia saponaria. Quindi si crea anche comunque un legame lavorativo e umano poi con questi lavoratori appunto dei paesi del sud del mondo. Grazie a tutti.